Buongiorno a tutti, mi chiamo Filippo Sirugusa, sono un diabetologo che sta partecipando a questo meraviglioso congresso sul diabete, obesità e metabolismo. È un congresso altamente innovativo perché lo spirito inclusivo di questo congresso ci porta a coinvolgere diverse figure professionali. Il mio ruolo è stato quello di approcciare un attimino un aspetto innovativo della terapia dell'obesità che è il mondo del microbiota. Io ho conosciuto, io ho presentato delle slide e la mia presentazione appunto verteva su quello che era la microbiota revolution in cui praticamente vado a definire quelli che sono i contorni di questo mondo meraviglioso sconosciuto per molti versi ma che è tanto infatta su quelle che sono le complicanze e la storia naturale di ognuno di noi. Quindi mi sono dedicato ai risvolti metabolici di questo mondo, degli approcci sia diagnostici che terapeutici di tutto questo e sono sicuro che data la grande sensibilità e l'ingivianza scientifica del nostro Presidente che questo mio approccio sarà seguito da molti colleghi perché sicuramente questo è il futuro, l'impatto che deve avere oggi il mondo del microbiota sull'alimentazione, sulle malattie, sull'obesità e su quelle che sono tutte le complicanze è importante. Pertanto io dico approcciamo questo mondo meraviglioso, in parte sconosciuto ma stiamo cominciando ad avvicinarci, è il futuro e sicuramente dallo studio e dalla conoscenza di questo mondo deriverà tutta una terapia che sicuramente andrà a modificare il nostro modo di lavorare e di affrontare questa patologia.